al di là del risultato roma monza 1 a 0 che può essere più o meno giusto nonostante un'espulsione incredibile il primo tempo di d'ambrosio vorrei sentire che cosa direbbe il roscio de roma uno dei miei personaggi del marietto show dopo questo scempio targato murigno che per l'ennesima volta prima di una partita contro l'inter si fa espellere casualmente roscio vediamo un po che direbbe il roscio a muri te ne devi andare a fanculo cerotto di coglioni è capito no murigno out murigno out sei solo un interista de me sei solo un interista de me fatelo dire davvero romanista non come tutti quei codardi che fessano dietro come le pecore beh beh e ce stanno i milanisti che fanno di più di out è il primo che se ne deve andare se tu hai capito no murigno out murigno out te ne devi andare a roma perché tu sotto la nostra maglia non la puoi manco mettere sei un indecente perché sotto se ne era azzurro te ne devi andare a roma questa sarebbe la reazione di un vero romanista non dico nient'altro murigno sei solo un pagliaccio lo sei sempre stato e sempre lo sarai e non ho niente contro la roma e romanisti voi lo sapete benissimo anzi e anche mi sta simpatica come squadra ma murigno è sempre lo stesso ricordatevelo ciao